Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 in apertura. Ci occupiamo subito dell'avvertenza Alliburton, una avvertenza che è arrivata oggi al tavolo di Confindustria dove questa mattina sindacati e impresa si sono confrontati sui 30 licenziamenti e sulla prospettiva della cassa integrazione per un anno. Le parti si rivedranno il prossimo 6 di settembre nel prossimo appuntamento. La multinazionale americana dovrebbe dare una risposta ai rappresentanti sindacali che vogliono scongiurare i licenziamenti o peggio la chiusura della sede di Ortona. Alfredo Primante. Un mese e questo è il lasso di tempo che sindacati e proprietà si sono dati per valutare possibili soluzioni alternative, cioè la cassa integrazione, rispetto al licenziamento di 30 lavoratori della Alliburton di Ortona. La multinazionale americana sta subendo la contrazione del mercato degli idrocarburi per cui ha deciso di ridurre la pianta organica della sede in provincia di Chieti che non più tardi dello scorso anno aveva subito una sforbiciata di 60 addetti. Il taglio dunque sarebbe di circa il 30% delle risorse umane perché nella sede di Ortona attualmente lavorano 104 persone, oggi fortemente preoccupate per la decisione del board americano che è arrivata in Italia come un fulmine a Celsereno e che potrebbe preludere alla chiusura definitiva. Questa mattina nella sede di Confindustria a Pescara rappresentanti dei lavoratori e dell'azienda si sono incontrati per una prima riunione tecnica come spiega Carlo Petaccia della FICTEM CGL. Siete aggiornati al 6 settembre, la vostra richiesta è quella di una misura alternativa ai 30 licenziamenti che è la Cassa Integrazione. È un'azienda che non ha mai utilizzato strumenti come la Cassa Integrazione perché nella loro logica quando le cose non vanno devono essere solo utili licenziamenti. Credo che adesso anche la crisi del settore che obiettivamente c'è, noi chiediamo che ci sia una diversa impostazione e quindi abbiamo chiesto esplicitamente di non licenziare. Aspetteremo il 6 per capire se questa società voglia veramente lasciare o meno, stiamo chiedendo solamente di prendere un attimo, un anno di tempo prima di licenziare. La storia in parte ci dà ragione perché per esempio possono succedere cose come sono successo da Beggary Hooks che dopo la fallita fusione con Alliburton sono stati acquistati dalla General Electric. Sindacato e lavoratori dopo il 6 settembre si riservano di valutare eventuali azioni di sciopero. Dopo quella data il tavolo comunque diventerà istituzionale coinvolgendo Regione e Ministero delle Attività Produttive. 15 ettari di bosco in fumo all'Aquila nella montagna di Aragno, fiamme a pochi metri dalle abitazioni e interventi in quota. Va accertata l'origine dell'incendio ma non si esclude il dolo. Daniela Rosone. 15 ettari di boscaglia in fumo all'Aquila, un incendio di vaste dimensioni che ha devastato la montagna di Aragno tra l'Aquila e il Gran Sasso nel giro di pochi minuti. L'inchiesta accerterà la natura dell'incendio che potrebbe essere anche di natura dolosa. Le fiamme sono arrivate a circa 200 metri dalle abitazioni, infatti è stato necessario l'intervento dei vigi del fuoco e anche di tanti volontari d'esercito per proteggere le case e le strutture circostanti. L'incendio, come dicevamo, è divampato in pochi minuti e in quota è stato necessario l'intervento di un canader, di due elicotteri dei vigi del fuoco, di uno dei carabinieri forestali e di uno dell'esercito. Tantissimi i lanci effettuati nel pomeriggio sulla zona fino a tardasera, particolarmente in perdia e questo ha reso tutto più difficile. Il comune dell'Aquila ha aperto per tenere sotto controllo la situazione il COC, il centro operativo. Il fronte dell'incendio si è steso per circa 3 chilometri e la situazione si è aggravata in pochi minuti perché il vento cambiava direzione in continuazione al fuoco. Un incendio vasto che ha sovrastato letteralmente la città dell'Aquila e ha riportato nella mente degli aquilani i drammatici momenti di qualche estate fa quando andò a fuoco la montagna di San Giuliano, luogo caro alla popolazione. Lì ancora se ne vedono i segni. Certo è che le difficoltà sono state aumentate anche per la prima volta dall'assenza dei forestali che accorpati ai carabinieri oggi non possono operare negli incendi boschivi e purtroppo mancano sempre mezzi e risorse come spesso denunciato dai vigili del fuoco. Cambiamo pagina, giornata convulsa quella di ieri in Consiglio Comunale a Pescara. Il sindaco Marco Alessandrini è soddisfatto per l'approvazione di tre delibere avvenute in serata ma non si sbilancia davanti alle telecamere circa il ritorno in giunta della lista Teodoro. Vediamo. Sindaco Alessandrini, ieri seduta animata in Consiglio Comunale, tre delibere passate in serata in attesa dell'assestamento di domani, però è stata un'altra giornata animata. Avrà questo rimpasto con l'ingresso in giunta della lista Teodoro e poi chi? Se è Veronica o Papa Gianni? Quante cose volete sapere? Bisogna rimanere collegati per vedere gli sviluppi. Io penso che il Consiglio Comunale come l'attività politica in genere non sia un pranzo di gala per cui è normale che ci siano quasi un po' di scaramucce che fanno parte anche un po' del gioco delle parti di pirandelliana memoria. Ieri comunque sono state approvate delle delibere importanti e arriveremo naturalmente alla definizione dell'assestamento che è un atto importantissimo previsto dalla legge e oltretutto aggiungo che noi nel corso di questi tre anni di governo abbiamo fatto certo dell'attenzione dal punto di vista finanziario, una delle nostre stelle polari considerando anche quello che ci siamo trovati ad ereditare. Poi si fanno naturalmente sempre relazioni e rapporti affinché si possa condividere con la maggioranza un percorso che vada nella direzione più fruttuosa possibile per l'interesse generale e superiore a noi tutti che è quello di Pescara. C'è chi dice che l'ingresso di Veronica Teodoro sia un po' più gestibile in giunta rispetto a Gianni? Ma diciamo che su queste cose io credo che non sia utile parlare dinanzi alle telecamere ci sono delle dinamiche politiche che vanno svolte nelle competenti sedi voi rimanete connessi e certamente avrete aggiornamenti. L'ultima, veramente una battuta, è stata la porta sbattuta a un po' ridestare il Consiglio Comunale ieri sera? Ma io penso che ogni tanto le brutte correnti giocano degli scherzi e determinano suggestioni per il resto tutta un'altra giornata in ufficio si dice in alcuni posti oltreoceano. Imbarazzo nella curia aquilana per la vicenda del sacerdote protagonista di una storia d'amore ma dieci anni fa lui si dimette scrivendo una lettera a Monsignor Petrocchi ma la gente lo assolve dopo l'errore un percorso spirituale di rinascita. Non può sposarmi, lei mi ama Ma io amo Dio di più Un peccato, una storia d'amore di dieci anni fa ma tanto basta per far parlare spettegolare una città di provincia come l'Aquila e così una storia d'amore di dieci anni fa appunto viene fuori in questi giorni dopo una sentenza e turba cittadini e crea anche imbarazzi alla diocesi dell'Aquila. Padre Ralf in questo caso è Don Vito, un sacerdote finito nella bufera per la storia d'amore che ricorda tanto uccele di rovo ma con una donna sposata scoperta e denunciata dal marito tradito. Una storia vecchia che risale a quando il parroco viveva a Roma poi un percorso spirituale che di fatto lo ha riabilitato e le è venuta all'Aquila. Il perdono appunto che come esiste per tutti gli uomini vale diciamo noi anche per i sacerdoti e così Don Vito, divenuto poi all'Aquila uomo di fiducia del vecchio arcivescovo Monsignor Giovanni D'Ercole si è riabilitato dopo un percorso immaginiamo anche doloroso e spirituale. Don Vito è un sacerdote che sa di aver infranto una regola ma che poi ha avuto un percorso per capire se lasciare gli abiti talari o rimanere nella chiesa. Un cammino nel quale è stato seguito. Uscita fuori questa vicenda ovviamente la curia si è trovata costretta a dover dare delle spiegazioni con una nota diffusa ieri e forse a dover prendere delle decisioni anche se poi Don Vito in città ha operato benissimo e si è fatto apprezzare anche nelle parrocchie aquilane tant'è che basta leggere i commenti della gente per capire quanto affetto abbia intorno. Insomma Don Vito dalla gente è perdonato. In tutto questo Don Vito è rimasto all'Aquila ma chiaramente non commenta c'è anche da dire che Don Vito stesso immediatamente dopo l'uscita delle prime notizie di stampa ha contattato l'arcivescovo Petrocchi dimettendosi dai suoi incarichi cosa che un prete ha fatto ma che ogni giorno i politici ad esempio ci insegnano a non fare. Per carità esistono delle regole come in tutti i campi che vanno rispettati chi sbaglia paga e se ne assume le conseguenze come il sacerdote ha fatto e probabilmente farà. Le banchine nord e sud del porto di Pescara andranno incontro a un processo di restyling. Stamani in Capitaneria di Porto è stato illustrato il progetto elaborato dall'autorità portuale un investimento che potrà dare ulteriore impulso al settore della pesca. Il porto di Pescara dovrà essere sempre più un motore di sviluppo e occupazione con un impulso particolare al settore della pesca. Così prende forma il progetto di manutenzione straordinaria delle banchine nord e sud elaborato dall'autorità portuale del mare adriatico centrale che ha lavorato in sinergia negli ultimi sei mesi assieme a Regione, Comune di Pescara e Capitaneria di Porto. Stamani la presentazione del bando FEAMP da 552 mila euro investimenti che serviranno per realizzare un modulo per ricovero dei pescatori e pensilina per il riparo dei retanti, fornitura e installazione dei parabordi d'ormeggio rifacimento sovrastruttura stradale, allestimento blocchi per servizi igienici e poi un impianto per il trattamento delle acque reflue e del lavaggio del pescato. 35 i posti barca ammodernati lungo i 500 metri lineari di banchine ristrutturate uno ogni 15 metri, con l'obiettivo di rendere il porto una struttura il più possibile partecipata dalla città e che implementi un comparto che occupa 240 persone con un fatturato nel 2016, secondo i dati della Camera di Commercio, di 3,3 milioni di euro. Il porto di Pescara merita di essere a livello infrastrutturale un porto all'avanguardia. C'è un progetto molto serio che viene portato avanti sia dalla Regione Abruzzo con degli interventi importanti e la Regione sarà la stazione appaltante sugli interventi che dà il coordinamento che stiamo facendo. In questi sei mesi i nostri uffici insieme alla Regione, al Comune di Pescara e alla Capitania di Porto, hanno messo in piedi un progetto molto importante, 550 mila euro di progettazione europea al 100% finanziata, destinata alla pesca. La pesca intendo come mondo dei pescherecci e dei pescatori. È un mondo molto importante, qui ci sono dei numeri molto seri che vanno rispettati. Quei soldi serviranno a semplificare la vita dei pescatori, a migliorare la vita dei pescatori e soprattutto a migliorare in termini generali l'accoglienza del porto di Pescara. Il Comitato di quartiere della CONA esulta per il finanziamento della delocalizzazione della centrale Enel. Il Comitato ribadisce l'importanza dell'intervento attivo dei cittadini per sollecitare e indirizzare le scelte politiche sul territorio. Ora per la centrale bisogna comunque continuare a impegnarsi per l'avvio celere dei lavori. Ascoltiamo a tal proposito il Presidente del Comitato CONA, Domenico Bucciarelli. Felicemente abbiamo ricevuto questa notizia da parte della Giunta regionale del finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per la delocalizzazione della centrale elettrica della CONA. È una vittoria del Comitato di quartiere perché è il Comitato da anni che insegue questo obiettivo. Abbiamo fatto un gioco di squadra con la regione, è un inizio di partecipazione democratica dove gli cittadini hanno manifestato questo interesse rilevante perché riguarda la salute e riguarda l'aspetto anche urbanistico di un quartiere letteralmente abbandonato. Quindi questo gioco di squadra ha funzionato. Il primo tempo si è concluso felicemente e adesso però c'è da fare il secondo tempo. Il secondo tempo è quello dell'analizzazione dell'intervento. In questo siamo fiduciosi perché la regione Abruzzo ha nominato come ente gestore del provvedimento della provincia. Perché? Perché il Comune di Teramo evidentemente ha manifestato in passato qualche difficoltà in ordine alla gestione dei progetti. Vedasi il progetto quartiere Gona che non è stato realizzato pur avendo disponibili 5 milioni. Ci spiace per il Comune di Teramo che non abbia partecipato a questo incontro, nel senso come amico, piuttosto che come contendente. Noi non vogliamo creare polemiche assolutamente con il sindaco e nemmeno lui però lo deve fare. Un teatro che sorride per riportare normalità e positività a chi ha vissuto la tragedia del terremoto. Nasce con questo spirito. Ripartiamo con un sorriso. La segna di teatro che è stata ideata dai comitati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria della FITA, la Federazione italiana Teatro Amatori che, d'intesa con l'amministrazione comunale di Civitella del Tronto e con il sostegno della FITA nazionale, hanno elaborato un cartellone estivo strapparisate di 27 date, tutte a ingresso libero, animate da 25 compagnie FITA del territorio e con 7 località coinvolte fino al 13 di agosto. 7 in tutto le rappresentazioni che si terranno a Civitella dal 3 al 13 di agosto. Vediamo. Siamo reduci da una stagione estiva molto positiva. Abbiamo continuato quindi a lavorare su questa strada e abbiamo creato un calendario in grado di richiamare quei turisti, soprattutto quel pubblico che è sempre stato attratto dal nostro borgo. Siamo partiti con diverse iniziative fenogastronomiche fino ad aggiungere appunto al Borgo di Birra che è stato un grande successo. Continuando su questa strada adesso vogliamo offrire al nostro pubblico un calendario un po' più ampio a livello culturale. Quindi partiremo già il 3 agosto con ben sette rappresentazioni teatrali che saranno portate dalla FITA Abruzzo nella persona di Antonio Potere. Poi proseguiamo con il premio Poesia dedicato ad Oreste Pelagatti. Poi proseguiamo con i concerti. Abbiamo un grandissimo artista di blues, Chris Kane, avremo anche una cantante new yorkese e quest'anno avremo due grandi artisti del cabaret napoletani. Quindi il divertimento è assicurato. E a conclusione un grande artista del teatro italiano, Michele Lagginestra, che porterà il suo ultimo spettacolo a Civitella del Tronto. Dallo scorso 28 di luglio e fino al prossimo 10 settembre al Museo La Civitella di Chieti sono esposte le opere di sei artisti nell'ambito della mostra Astrazioni Parallele curata da Erminia Turilli che ascoltiamo. Questa mostra si chiama Astrazioni Parallele del gruppo Atomosfera Punto 7 di sei artisti Alfredo Celli, Franco Sinisi, Anna Seccia, Massimo Pompeo, Bruno di Pietro e Rossano Maria di Ciccomorra. Sono loro i protagonisti di questa splendida esposizione, una preziosa esposizione. Volevo sottolineare che molte opere sono state fatte per questa occasione, in particolare le opere di Massimo Pompeo che abbiamo tre stellazioni all'inizio della mostra con dei resti archeologici, poi c'è l'opera di Anna Seccia, ispirato al labirinto di Chartres di Notre Dame di Paris, poi abbiamo altre opere di Alfredo Celli e tutte le opere che hanno data 2017, comprese quelle di Rossano di Ciccomorra, Franco Sinisi, tutti insomma e Bruno di Pietro, sono tutte, Pompeo l'ho chiamato per primo, sono tutte preparate appositamente per questa esposizione che ha nome Astrazioni Parallele che vede un ospite d'onore quale Achille Pacio è maestro dell'astrattismo storico. La pittura moderna è quanto mai piena di problemi perché la società si è molto moltiplicata, ha acquistato diverse elicità e dunque culture, però rimane un elemento principale, quello dell'essere che è uguale per tutti. Festival internazionale di mezza estate a Tagliacozzo, oltre 57 eventi e un cartellone straordinario con la direzione artistica di Jacopo Sipari di Pescassero, li vediamo. 57 appuntamenti raccolti dal 28 luglio al 25 agosto, il festival più antico d'Abruzzo che si rinnova e che viene completamente rivisitato, affidando la direzione artistica di un giovane abruzzese talentuoso come il maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli. Una 33esima edizione caratterizzata dall'internazionalità, questo è il festival internazionale di mezza estate di Tagliacozzo, incardinata nella valorizzazione del talento artistico, ispirandosi ai grandi festival europei. La grande novità è l'aver creato anche un'orchestra stabile, che sarà presente per tutta la stagione. Un'orchestra resident dunque, un programma estremamente variegato e complesso, che ha visto per la serata inaugurale una piazza dell'Obelisco dai grandi numeri per i Carmi Naburana. Come dico sempre, uno può dirigere ovunque nel mondo, ma poi quando torna a casa sente un'atmosfera sicuramente diversa e quindi l'emozione è davvero forte. Quest'anno è la 33esima edizione di un festival importantissimo, importantissimo non solo per Tagliacozzo, per la nostra regione, ma per tutta Italia. La nomina a direttore artistico devo dire che mi ha veramente emozionato e mi ha reso estremamente felice, perché poter portare quello che probabilmente so fare nella mia terra penso non abbia prezzo. Abbiamo istituito per la prima volta un'orchestra stabile e questo ovviamente ci ha consentito di invitare prestigiosissimi solisti che collaboreranno con l'orchestra, da Luis Bacaloff a Enrique Batiz a Carlo Maria Parazzoli, primo violino dell'orchestra di Santa Cecilia, ma ne sono tantissimi e abbiamo cercato veramente di portare l'Abruzzo a quel livello che merita e che a volte viene dimenticato. Vincente è senza alcun dubbio la politica dell'amministrazione comunale di Tagliacozzo, che mette così la città che ormai da 33 anni ospita momenti di grande pregio culturale al centro del mondo, investendo sulla cultura per valorizzare le bellezze e le potenzialità del territorio. In un momento storico in cui in tanti si riempiono la bocca con la parola cultura, Tagliacozzo la crea. Uno dei festival più antichi d'Abruzzo e uno dei festival più prestigiosi d'Italia. Facciamo parte del circuito Italia Festival che raduna i 30 festival più prestigiosi d'Italia. Voi sapete che in Italia ce ne sono più di 600, quindi eccoci qui tra i 30 primi nella nostra nazione. Noi pontiamo molto sull'aspetto culturale perché Tagliacozzo può dirsi capitale della cultura nell'ambito dell'entroterra abruzzese e vogliamo tornare ad essere la capitale culturale dei Marzi, ma anche di tutto l'Abruzzo occidentale. Da domani fino al 5 di agosto in piazza dell'Aviatore a Colledara appuntamento con lo Iame Festival. L'iniziativa porta la musica in uno dei comuni colpiti dal terremoto per stimolare le persone a non arrendersi animando l'entroterra montano. Giorgio Giannella, presidente dell'Arciteramo, prosegue la rete dei festival negli pendenti di Arci con un appuntamento a Colledara. Sì, questo è il penultimo appuntamento della rete provinciale dei festival, un appuntamento a cui teniamo in modo particolare perché si svolge all'interno di uno dei comuni colpiti dal maltempo e dal terremoto di questo inverno. A Colledara grazie alla collaborazione dell'associazione Riscossa che è neonata appena un anno di vita, però ci sta dando una mano importante per realizzare i festival. I festival saranno tre giorni di musica con gruppi di carattere nazionali. Il primo giorno il 3 agosto Cisco dei Modena City Ramblers con il suo gruppo di dinosauri, il secondo giorno invece ci sarà Zulu del 90 nove posto con un live set, quindi canterà e metterà dei pezzi con delle basi insieme a un'altra cantante che lo accompagnerà e poi l'ultimo giorno nada con i Toy Orchestra. L'appuntamento per noi è importante perché svolgendosi poi nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti e la Laga abbiamo la collaborazione dell'associazione Gran Sasso Laga Trek che è una scuola di escursionismo e quindi durante le giornate sarà possibile fare delle escursioni nel parco e la sera per chi vorrà e i ragazzi che vorranno rimanere abbiamo allestito anche un camping libero nel campo sportivo quindi ci sarà la possibilità di pernottare e viversi il festival della musica a 360 gradi. E ora la pagina dello sport con la amichevole giocata ieri dal Pescara contro la Fidelisandria a Palena, partita vinta 3 a 1 dalla squadra di Zeman in gol Zampano, Mancuso e Guns. Il servizio della partita è a seguire le dichiarazioni del neoattaccante esterno Emanuel Lattelatta. Un discreto primo tempo con tracce ben visibili del gioco voluto da Zeman. Il Pescara supera 3 a 1 la Fidelisandria, squadra che militerà nel prossimo torneo di Serie C e denota dunque dei passi in avanti rispetto alla gara col Teramo, finita col medesimo risultato in quello che è il penultimo test prima del debutto in Team Cup di domenica prossima contro la Triestina. Zeman conferma dal primo minuto la coppia di centrali, Delicarri per Rotta, candidabili dunque per il match di Coppa Italia. Palazzi provato come play, ai suoi fianchi Coulibaly e Valzania. Quest'ultimo, dopo lo scampolo con la Virtus Teramo, disputerà tutti i 90 minuti al pari di Zampano e Nicastro. L'ex Perugino fa parte del tridente con Cappelluzzo al centro e Mancuso a sinistra. Sulle gradinate dello Stadio degli Angeli di Palena, 400 tifosi, una cinquantina di sponda pugliese. Il Pescara parte bene, buon pressing che sorprende la Fidelis e che crea i presupposti per un paio di pericolose conclusioni di Mancuso e di Palazzi che sfiorano il bersaglio grosso. Al dodicesimo, il primo gol del pomeriggio, porta la firma di Francesco Zampano. Il laterale genovese, tra i migliori, scende di prepotenza, ottiene il triangolo da Cappelluzzo e batte Cilli con un preciso diagonale. I quasi 800 metri di Palena non risparmiano i giocatori dal grande caldo, tanto che a metà del tempo c'è un timeout per recuperare liquidi ed energie. Poco dopo la ripresa dell'ostilità, il Pescara raddoppia alla mezz'ora con Mancuso che sorprende alle spalle Onescu e raccoglie il suggerimento di Coulibaly per poi depositare in rete in scivolata. Lo stesso Mancuso rifinisce una rapida azione di rimessa che porta al tiro Nicastro che però non è preciso. Nel secondo tempo, Zeman cambia subito 7 undicesimi dando i primi minuti a Campagnaro con Gans e Lattelatti in avanti. Ma l'avvio di ripresa è negativo, con la difesa infilata più volte in profondità dalla Fidelitz che ha al quarto di mezzo il distacco con Minicucci e poco dopo va vicino al pari, in particolare con la doppia conclusione di Barisic che trova prontissimo Fiorillo. A ridestare il Delfino è la velocità di Lattelatti il cui spunto innesca l'azione del terzo gol pescarese. Lo realizza Simone Andrea Gans che trasforma in rete la prima palla buona giocata in area pugliese. Lo stesso centravanti sfiora la doppietta prima di metà tempo ma Mauro Antonio si oppone. Il risultato non cambia fino alla fine, i biancazzurri torneranno in campo subito giovedì pomeriggio a Palena per il test in famiglia con la primavera mentre nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità della cessione di Davide Vittorini al Carpi in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Emanuele Lattelatti uno dei volti nuovi del Pescara, subito una prima impressione sul lavoro svolto fino ad oggi con Zeman, avete lavorato tanto? Abbiamo lavorato abbastanza per iniziare bene già da domenica con la partita di Coppa Italia, l'abbiamo lavorato molto e speriamo di con oggi la partita lì che ci serva per mettere in pratica le cose che ci ha insegnato il mister in queste due settimane. La squadra, i compagni sono molto, è un gruppo molto unito anche se ci conosciamo da poco però si ride, si scherza, quando c'è da essere seri si è seri e si lavora insieme quindi è un bel gruppo, mi piace. Nella prima parte di preparazione hai avuto qualche problema fisico tutto risolto? Sì, sì ho avuto qualche problema però tutto risolto, è dovuto al, non essendo giovane, essendo un po' più piccolo ho avuto un po' di problemi del sovraccarico che mi ha pesato tanto però ora mi sono rimesso a posto. Adesso siamo in tanti quindi le scelte del mister saranno, magari saranno piacevoli per me ma come saranno dispiacevoli quindi aspetta la decisione, aspetta il mister e io appena mi chiamo sono sempre pronto. Questa può essere la stagione del definitivo lancio per te in Serie B con una squadra che mira a posizioni importanti, a traguardi importanti? Infatti una scelta di venire qua soprattutto per il mister e anche l'ambiente è stata fatta per quella e quindi se vuoi rispondere alla sua domanda sì potrebbe essere l'anno non solo mio ma anche di altri compagni che sono qua e ce la giochiamo. Mi sta piacere tanto che è un mister che fa lavorare tanto, ha allenamenti molto molto duri, non pensavo così tanto duri però molto duri e che lavora tanto con gli attaccanti, soprattutto gli esterni come me quindi ho detto voglio provare, veniamo e facciamo. Hai detto qualcosa Gian Piero Gasperini, tra l'altro ex Biancazzurro su Pescara, sulla piazza di Pescara e anche sull'ambiente? No, non ho avuto modo di parlare con il mister per questa sessione per venire a Pescara quindi no, è zero. E ora la Serie C ha ripreso ieri ad allenarsi il Teramo allo stadio Bonolis, domani alle 18.30 a Castelnuovo Vomano, test amichevole contro la Torrese. Intanto il centrocampista Carlo Ilari, uno dei reduci della scorsa stagione, è soddisfatto dell'attuale preparazione precampionato e svela quest'anno indosserò la maglia numero 10. Diciamo che l'anno scorso non ho proprio iniziato perché il ritiro l'ho saltato completamente quindi è ovvio che quest'anno con un ritiro alle spalle ci sono i presupposti per essere in condizione in tempi più brevi. L'anno scorso ho iniziato ad agosto, poi subito con le partite, le amichevoli, quindi è stato più complicato soprattutto all'inizio, me ne sono accorto e ce ne siamo accorti perché anche i risultati collettivi sono venuti a mancare. Speriamo quest'anno iniziare in un altro modo. Dobbiamo avere la testa sgombra e ripartire senza quei pensieri perché comunque fanno parte del passato e fanno parte della scorsa stagione. Ripartiamo con il giusto entusiasmo, poi è giusto che ci sono anche i nuovi che portano e creano entusiasmo perché ovviamente portano cose nuove. Però noi, diciamo vecchi, tra virgolette, dobbiamo avere la testa libera e pensare solo a iniziare bene il campionato e non pensare più a quello che è stato. Il mister vuole che le mezzali siano molto offensive e quindi questo gioca a mio favore perché è chiaro che rispetto alla passata stagione in cui giocavamo a quattro ho più libertà di inserirmi e quindi di favorire le mie caratteristiche. Sì, diciamo che sia per me che per De Grazia, come si è visto, diciamo che abbiamo libertà di attaccare con ovviamente il dovere di rientrare e di difendere anche. Però questa libertà sicuramente ci fa bene e mi fa bene anche a me. Quindi abbiamo cambiato, prendo il 10. Ma perché insomma abbiamo visto un po' la situazione, c'era Tulli che poteva prendere lo prendeva all'11, allora ho preso la palla al balzo e ho detto di, insomma, l'avrei preso io. L'hai chiesto tutto? Sì, sì, sì. No, vabbè, si decide tutti insieme, però nessun altro si è proposto, quindi è andata bene così. Scendiamo di categoria, mancava soltanto l'ufficialità che giunta nel tardo pomeriggio di ieri con apposito comunicato la Lega Nazionale Direttanti ha disposto il ripescaggio in Serie D del Francavilla Calcio. Si arricchisce dunque la pattuglia di abruzzesi nel campionato, salgono a 7, il Francavilla sarà con Pineto, San Nicolò, Avezzano, L'Aquila, Vastese e Nerostellati. C'è ora attesa per la composizione dei gironi con le abruzzesi che potrebbero essere inserite in due distinti raggruppamenti. E a proposito di Serie D, finalmente è arrivato l'accordo in seno all'Aquila Calcio, il gruppo capeggiato dal Romano Fioramanti farà partire la stagione e a settembre ci sarà una gnuco per acquisire le quote di maggioranza. Un comitato di saggi vigilerà sulla vecchia proprietà e il pagamento dei debiti e sui nuovi che dovranno mettere in cassa liquidità per la stagione. Una sponsorizzazione intanto dei nuovi sarà necessaria per partire con il ritiro. Vediamo. Dopo la folle giornata di ieri vissuta dall'Aquila Calcio, tra smentite, annunci e polemiche, la notizia finalmente dell'accordo che consentirà alla comitiva Rosso-Blu di partire per il ritiro e di iniziare la sua stagione. A finanziare l'avvio della stagione sarà il gruppo capeggiato dall'imprenditore romano Umberto Fioramanti e di cui fanno parte anche Massimo Gizzi ed Ernesto Penzi. L'idea è quella di rilevare dopo l'estate almeno il 60% delle quote sociali attraverso la costituzione di una gnuco. A vigilare sulla vecchia e sulla nuova proprietà ci sarà un comitato di saggi, figure di garanzia che si occuperanno di verificare da un lato il pagamento dei vecchi debiti e dall'altro che i nuovi mettano liquidità nelle casse della società. I garanti dovrebbero essere il notaio Trecco, il vice sindaco Liris, l'assessore allo sport Piccinini ed altri. Sul fronte squadra il direttore tecnico Maurizio Ianni e il mister Battistini stanno lavorando per la composizione della rosa. Dei senior rimarrà il solo Steri con i giovani Farroni, Esposito, Sieno e Dictevicius, oltre agli altri Junores. I tempi stringono ma non è impossibile creare una rosa dignitosa e nel brevissimo tempo bisognerebbe partire per il ritiro. Era questo l'ultimo servizio del TG6 che torna con le prossime edizioni del giorno alle ore 19 e poi alle ore 23 con la terza edizione. È tutto, grazie per averci scelto. Grazie. 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 Grazie.